Nel corso delle operazioni sono state schierate unità operative garantendo attraverso il personale della Polizia di Stato, coadiuvato dal personale dell'Asp, ognuno per i suoi settori di competenza, una significativa presenza sul territorio. In particolare i servizi hanno interessato l'asseviario di Padermo di Via Macheda nel tratto compreso tra Via Torino e Piazza Verdi, un itinerario turistico quotidianamente percorso da numerosi turisti e caratterizzato dalla presenza di diversi negozi. L'asseviario è stato pattugliato e presidiato dalla Polizia di Stato a piedi o in auto, soprattutto in quelle aree ad alta densità turistica che spesso rischia di attirare anche malintenzionati. Complessivamente sono state identificate un centinaio di persone, controllate i numerosi veicoli, accertate quattro violazioni al codice della strada per un totale di 7.200 euro, un sequestro amministrativo e un fermo amministrativo. Sono state effettuate attività ispettive all'interno di due esercizi commerciali in cui sono state riscontrate irregolarità di natura amministrativa. Gli esiti dei controlli ispettivi hanno consentito di accertare in entrambi i due esercizi carenze strutturali, con sanzione amministrativa pari a 2.000 euro ciascuno. I servizi di controllo del territorio ad alto impatto avranno carattere di continuità e proseguiranno anche nei prossimi giorni.